Ultimi giorni di campagna elettorale ed ultime schermaglie fra le due coalizioni. E Pierpaolo Roberti, segretario provinciale della Lega Nord, in una conferenza stampa svolta sistamane, ha riassunto quelle che sono le principali critiche formulate da centrodestra nei confronti dell'amministrazione Cosolini. Cosolini aveva promesso nel 2011 di portare il lavoro a Trieste e ai triestini. Purtroppo la realtà dei fatti è che in questi cinque anni lui ha iniziato il suo mandato con un tasso di disoccupazione del 4,4% e lascia la città nel 2015 con un tasso di disoccupazione dell'8,1%. Alla crisi del lavoro Roberti affianca quella del commercio, ricordando che Trieste nel 2015 ha conseguito il primato di città con il maggior numero di esercizi commerciali che hanno abbassato le serande. Questo si associa alle tante promesse mancate in questi anni. Mi riferisco per esempio al Grezzar che ad oggi non è ancora completato, la caserma Beleno che a oggi, nonostante mille promesse, non è stata ancora inaugurata ed è ancora abbandonata a se stessa. Roberti poi ribadisce un altro jacuzzo formulato dal centrodestra, quello della mancanza di dialogo e confronto tra amministrazione e cittadini, soprattutto con i residenti nelle periferie, che afferma il 5 giugno hanno punito un sindaco più attento a seguire gli input dei vertici del PD piuttosto che ascoltare i triestini. E non manca una critica al gruppo di donne che nei giorni scorsi hanno stato scritto un documento di sostegno a Cosolini. Oggi ritroviamo una delle cento firmatarie che si definisce Libera, che in realtà è l'ideatrice del gioco del rispetto. Dopo una firma non voglio pensare cosa potrebbe succedere nei prossimi 5 anni.